ciao ragazzi vedete in questo nuovo video e in questo video come avrete letto dal titolo scusate la cessaggine se mai detrugia metà si guarderà questo video diciamo questo è il mio livello massimo di cessaggine se mi travigno a capire così siamo a cavallo e niente diciamo in questo video come avrete letto dal titolo ci tengo a dirvi come mi sento dopo che simone detrugia amy tights mi ha bloccato su instagram e non abbiamo rapporti ormai da due settimane credo scusate sono gli occhiali la vista e non ci vedo senza e niente appunto in questo video ci tenevo a dirvi come mi sento dopo che mi ha bloccato da due settimane ma no scusate il doppio mento ma si sa la quarantena ormai non sto più avendo neanche un collo e dovrei fare la dieta questo lo so però niente appunto in questo video come avrete letto dal titolo vi voglio parlare di come mi sento dopo che non ho rapporti con lui da due settimane allora stavo dicendo ci tengo a dirvi che ogni video è una ripetizione ma non capisco perché continuate a trollarmi dicendo che simone non è simone anche perché non so se ve lo sapete però dio mi ha dato una testa pensante due braccia è una bocca stupenda col quale ci faccio tante cose belle quindi come ho detto in un altro video vi prego di smetterla perché appunto ho una testa pensante e so di conoscere le persone è come ho detto prima come fa una persona a non essere se stessa quindi apprezzo che voi cioè non lo apprezzo perché cercate di trollarmi solo che non ci casco cioè non ci casco no tornando al titolo del video scusate la cessaggine ma non ho voglia oggi però appunto tornando al titolo del video vi voglio dire come mi sento dopo che lui mi ha bloccato sono due settimane che non abbiamo rapporti allora devo dire che inizialmente è stato difficile perché come sapete è da tanto che cercano youtuber col quale fidanzarmi pensavo di aver trovato quello giusto ed essere stata bloccata così ha fatto male io ne ho fatto male nel senso io ne parlavo pure con le sud americans mentre le briefavo no loro tutti preoccupate loro mi dicevano ma dai guarda che passerà stai tranquilla no tutto passa morto un papa se ne fa un altro passerà stai tranquillo no dopo il sole viene la neve dopo il nuvoloso esce il sole e quindi diciamo mi hanno tirato molto su però niente diciamo che quando non ci sentiamo ho riscoperto me stessa nel senso ho dovuto rimparare a rifare le cose nel senso ho imparato a camminare non corro ancora perché ho paura di cadere ho rimparato a leggere infatti vi consiglio questo libro ragazze come diventare femmina alfa in 10 step di baby k perché ti salva veramente la vita se vuoi dimenticare un uomo ho rimparato la matematica infatti 5 più 2 fa 10 e diciamo ho riscoperto la semplicità della vita come capito come ho detto prima camminare respirare fare le scale e briefare cose così no scrivere ai calciatori no queste cose così semplici devo dire che riniziare non è mai facile anche perché come vi ho detto pensavo che lui fosse quello giusto no tipo quando ascoltavo la canzone di lucio dalla io e te io e te come nelle favole a guardare i bambini no a menare i vicini e mi rivedevo molto in quella canzone insieme a lui perché lui fa molto il cattivo ragazzo no nelle sue canzoni scrive gang gang sghere sghere quelle cose là e invece poi è un buon accione no quindi è una cosa che apprezza molto di lui e quando ascoltavo quella canzone di lucio dalla mi ci rivedevo molto no e niente ragazzi questo è come mi sento dopo due settimane che non abbiamo rapporti anche perché devo dire per un momento siamo stati la coppia del momento no come gigi d'alessio e è andata è andata d'angelo e laminetti e gue pequegno cioè io penso che veramente per un secondo le persone ci hanno voluto insieme no anche perché siamo due mondi opposti però che ci hanno qualcosa in comune credo e niente ragazzi questo è ciò che è successo come mi sento dopo due settimane che non ho rapporti con lui come ho detto prima e vabbè che ormai sono quasi irrilevante no però dico smettetela di trollarmi perché come ho detto io ho una testa pensante e come la cosa di paolo come fa una persona non essere se stessa no quindi smettetemi di dire che le trugge amity sono nel lui e cose del genere perché come vi ho detto non ci casco spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi cosa stai facendo in questo periodo come ho detto io ho riscoperto grazie a detrugge amity che mi ha bloccato ho riscoperto la semplicità delle cose come camminare andare a correre se lui vuole dare una seconda chance io lo aspetto sempre a porta venezia perché quel poco che abbiamo condiviso mi ha fatto piacere no e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi come state scusate il look ma diciamo che questo video lo volevo fare per terra perché io a casa ho il parquet e quando faccio video per terra sul parquet mi sento a contatto con la natura no come se toccassi un albero mi sento sicura è libera di stimolare le mie emozioni solo che oggi il parquet era troppo duro ed ho preferito il letto non è la stessa cosa però niente spero io sia riuscita a trasmettervi cosa provo nel senso è difficile rialzarsi dopo che hai amato una persona però non è impossibile e niente spero che questo video vi sia piaciuto è stata un po' una ripetizione ma io non sono brava a fare i discorsi e niente come dice baby k per rialzarsi si comincia sempre dalla fine no quindi grazie per aver seguito questo video e love you baci stella ah mi è venuta in mente un'altra frase mi sa che lo diceva il darei lama no nel senso che lui stavo dicendo la frase che diceva il darei lama è che tu hai preso il mio cuore e ne hai fatto molto di più no e niente spero che questo video vi sia piaciuto scusate il look mi farò perdonare se detrugge mi tights guarda questo video questo sono io al mio peggio come ho detto prima se mi devi pure gnocca così siamo a cavallo no a cavallo donato non si guarda in bocca ma gli si zucchi all'uccello grazie per aver veduto questo video come ho detto sto imparando a riparlare quindi scusate se ho fatto degli errori ancora non corro ma presto sarò come una libellula libera grazie baci stellari